Sapete come mi vorrebbero i miei clienti? Così! Assistenza informatica, buonasera! La stampante sei inceppata! Arrivo immediatamente! E di questo… beh, ne parliamo subito! Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico URGENTE di fiducia! L'informatica è entrata di prepotenza negli uffici e nei luoghi di lavoro e il computer spesso, anziché affiancare, sostituisce intere parti del processo produttivo. Per cui lo capisco, in caso di guasto un'intera azienda può trovarsi in grossi guai. Quello che, invece, NON capisco sono quei clienti che, dopo avermi chiesto di intervenire, neanche gli stesse andando a fuoco l'ufficio. Appunto. Poi io vado a prendere il computer di venerdì sera, trovo ricambi dopo aver bloccato i miei fornitori che praticamente stavano chiudendo il negozio, mi passo un sabato e una domenica piantumato in questo laboratorio, riformattando e reinstallando a venti programmi alla volta, tirando fuori configurazioni tipo incantesimi che neanche Harry Potter insieme all'esercito di Silente, e recuperando driver che manco la cerca degli Horcrux è stata così complicata. Arrivo a lunedì mattina alle 8, quando chiamo il cliente stravolto. Il computer è pronto, ci sono riuscito. Eh? Ah no, tranquillo, sono andato a sciare in Svizzera, ci sentiamo quando rientro, alla fine della prossima settimana! Ciao a tutti, e alla prossima! Sì, c'è scritto RUSPA BARRA ESCAVATORE BARRA PALA MECCANICA. No, no, non sono tre mezzi, è uno solo, è polivalente. Davanti c'è la RUSPA, dietro c'è l'escavatore, sopra c'è le lamerotanti, di lato c'è la labarda spaziale e si trasforma in un razzo missile con circuiti di millevalvole. Oh, in caso d'alluvione è utilissimo!